Federico Fanti, da dove ripartiamo? Dal demarsi pieno alla semifinale con il Pineto, dall'amarezza di quel pomeriggio o dalla voglia di riprovarci? Dalla voglia di riprovarci sicuramente, magari ripetere un demarsi pieno come contro Pineto, ripartiamo dalla voglia di riprovarci. Anche perché io ringrazio di nuovo il Presidente Paris e il Direttore Carlo che hanno riconfermato tutta la squadra in blocco. Era quello che noi avevamo chiesto, i tifosi avevano chiesto e ringrazio veramente il Presidente Paris. E questo vale più o come un nuovo acquisto la conferma del gruppo? Sicuramente di più, partiremo sicuramente avanti agli altri perché partire con un gruppo già messo bene in campo, già che noi ci conosciamo tutti quanti, già è una cosa in più. Quali saranno secondo te le avversarie del prossimo anno? Sì, Francavilla ha sentito che è stata un'ottima squadra, la San Giustese è stata un'ottima squadra e anche Varsha ha riconfermato l'attaccante. Quindi sarà un bel campionato come sempre, come il Giro Neffe. Posso chiederti per te, che insomma il bianco-verde lo hai un po' nel cuore, posso chiederti che cosa si prova a vedere. Dall'altra parte i rivali di sempre, l'Aquila che attraversa delle difficoltà. Immagino che uno come te ci tiene a rifare il derby l'anno prossimo. Ma sicuramente, è un dispiacere anche perché una città come l'Aquila è brutta questa situazione. Io l'anno scorso, prima di fare il derby di ritorno, ho fatto un blaso ai giocatori che hanno giocato gratis fino all'ultimo giorno. Hanno dato l'anima fino all'ultimo giorno, infatti anche contro di noi è stata una partita dura. Dispiace, dispiace, però purtroppo il calcio è così. Grazie. 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 Grazie.